Alla tua sensibilità di donna, Ariston dedica una piccola grande rivoluzione. E' Molinello, il nuovo sistema di lavaggio con caduta cascata, per trattare con amore anche i tuoi capi più fini. Barberetta Molinello, la lavatrice che lavora come le mani di una donna, è una nuova idea Ariston. Barberetta Molinallo, la lavatrice che lavora come le mani di una donna. Barberetta Molinallo, la lavatrice che lavora come le mani di una donna. Barberetta Molinallo, la lavatrice che lavora come le mani di una donna. Barberetta Molinallo, la lavatrice che lavora come le mani di una donna. Grazie a tutti. 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 a tutti.